Per chiudere questo primo nostro intervento, la serata è strutturata in due interventi per cuore, tre canzoni, poi ci sarà un attimo per lo scambio di... per poter dedicare qualcosa di concreto, una psicologia concreta agli amici di cuore e poi proveremo comunque carri da assieme, diretti dai rispettivi, quindi questa è la programmazione della serata. Parlerò una bella possibile anche per proporvi questo canto di fine prima parte, un altro canto di Matti Sui, musicato da Michele, che parla della benizione, che si aveva 200 anni fa anche per una donna con cui non si potrà coronare proprio il sogno d'amore, una benizione che in questi tempi forse è un tempo che vorrebbe essere più difficile da trovare, un tempo così. Grazie. 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 Grazie.